Sono ancora vive le immagini e le emozioni della vittoria della Coppa Italia della Gevi Napoli Basket lo scorso 18 febbraio. E per rendere quei ricordi ancora più vivi e indimenticabili, dalla penna di sette giornalisti inviati a Torino, nasce il libro Una Coppa all'improvviso, che racconta i giorni che hanno portato gli azzurri ad alzare al cielo la Coppa Italia 2024. Un racconto tra cronache, storie, aneddoti e interviste ai protagonisti a firma di Stefano Presti Simone, Ettore De Lorenzo, Marcello Altamura, Marco Cagliazzo, Davide Uccella, Giuseppe Cacciapoti e Carmelo Presti Simone. Il libro è stato presentato ufficialmente nella sede della Gevi Napoli Basket in Viale Gramsci, in un evento aperto a tifosi e appassionati. Ascoltiamo alcuni degli autori, Davide Uccella, Ettore De Lorenzo, Giuseppe Cacciapoti e Stefano Presti Simone. Io sono un po' il novizio del gruppo, è stato divertentissimo, è stato entusiasmante far parte di questa operazione che riguarda la bella memoria dei bei ricordi della pallacanestro napoletana, che non ha nulla da invidiare a tante altre tradizioni a livello nazionale. 14 mani, 7 test, 7 test non è facile da metterne insieme, è stato divertente, faticoso anche, però crediamo di aver alla fine sfornato un prodotto che al di là insomma della qualità che a noi sembra bella, ma che resta un ricordo di una impresa storica. È un'impresa che è completamente diversa perché è in attesa, inaspettata, una coppa all'improvviso proprio perché del tutto inaspettata perché una squadra che era partita da underdog, una squadra partita assolutamente senza nessun tipo di pronostico a favore è arrivata a fare quello che è arrivato a fare. 240 pagine, un libro molto ricco, con tantissime cose che non si sanno, che non sveliamo, tante fotografie mai viste prima di quel weekend e quindi ci aspettiamo tanto affetto da parte dei lettori. Con la prefazione di Pierluigi Pardo e le introduzioni di Gianni Petrucci, presidente Federazione Italiana Pallacanestro e Umberto Gandini, presidente Lega Basket, il volume di 240 pagine offre una combinazione avvincente di racconti e fotografie. Al suo interno le interviste ai protagonisti, le schede dei giocatori, le storie più belle e il racconto personale di chi ha vissuto in prima persona l'emozione di questa impresa sportiva. Ascoltiamo il presidente della GEV Napoli Basket, Federico Grassi. Sicuramente abbiamo scritto una parte di storia del basket. Certamente quando siamo partiti forse si pensava di portare la scuola in Serie A ma non si pensava di riuscire ad arrivare a tanto. Ci siamo arrivati quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto per la città.